Siamo con il sindaco di Cortona Luciano Meoni, questa mattina ha fatto il punto, il bilancio di mandato, in un minuto e mezzo è difficile sintetizzare tutto. Sì, ora è stata una sintesi della sintesi perché evidentemente i tempi sono stretti, però tuttavia abbiamo dimostrato di aver fatto un grandissimo lavoro di squadra, ringrazio la Giunta e i consiglieri comunali al di là di alcune divergenze che oggi vorrebbero far capire che siamo stati divisi in realtà e in cinque anni abbiamo lavorato seriamente per il territorio nonostante due anni e mezzo quasi di pandemia e credo che le risultanze siano positive, dai lavori pubblici all'impegno sulla sicurezza nel territorio, all'impegno verso il sociale, la sanità, insomma abbiamo dato risposte concrete a tutto il territorio. C'è un aspetto di cui lei va orgoglioso e un appuntamento che non è riuscito a definire? Ma direi di no perché il programma è stato completato, in più abbiamo fatto quelle opere che non erano previste nello stesso perché evidentemente sono state rese possibili grazie al PNRR dopo la pandemia perché da una parte la pandemia ha portato un disagio, dall'altra parte ha dato la possibilità anche agli enti di andare a investire col PNRR e quant'altro. Quindi abbiamo portato avanti la piazza Camuscia, la riqualificazione dei paesi, la Camuscia stessa, mercatale. Lei ha parlato di una grande scommessa vinta, quella della Cortona Sviluppo. Certamente sì, la Cortona Sviluppo è un'azienda che oggi è veramente invidiabile perché è un'azienda che fattura, che fa utili. Abbiamo riqualificato tutto il mattatoio dove peraltro si viaggia con una media mensile di 100.000 euro di fatturato, di imponibile mensile. Abbiamo aumentato tantissime attività presso le sale congressi.